Se ho capito qualcosa in 40 anni, è che quando un uomo dimostra, la donna abbassa le sue difese. Il gioco sta tutto qui. Dimostrare, ossia mostrare attenzione, interesse, sincerità, impegno. Senza giochini, giochetti, oppure fare finta. Questo fa semplicemente sentire la donna più sicura. Perché per molte donne è molto più importante la coerenza tra le azioni e le parole. Il gioco sta proprio nel far vedere che sei affidabile, genuino. Non serve provare a impressionarla con tanti gesti eclatanti. Sono le piccole dimostrazioni di cura e di interesse a fare la differenza. Alla fine, sincerità e rispetto fanno sempre più strada di qualunque altra strategia. E quando una donna si sente vista ed apprezzata per quello che realmente è, la connessione per lei diventa anche molto più profonda. Succede sempre così.